Una scuola a misura di studente, l'amministrazione comunale di Certosa ha inaugurato in concomitanza con la partenza dell'anno scolastico la nuova ala della scuola primaria. Lavori fondamentali che hanno consegnato ai bambini, una nuova mensa e aule spaziose e funzionali. Sì, finalmente l'abbiamo inaugurata sabato scorso. Davvero è stata un'emozione grandissima perché riuscire a dare un elemento nuovo, anche se non proprio una scuola nuova, alla cittadinanza è stato motivo d'orgoglio. I ragazzi da praticamente lunedì scorso riescono a poter mangiare in un posto molto più bello, in un luogo sicuramente più sicuro e più funzionale. Noi attraverso questa operazione di ampliamento scolastico che con questo terzo lotto completiamo abbiamo effettuato quattro nuove aule con due corpi bagno, nella parte superiore e nella parte inferiore invece abbiamo creato una nuova mensa collegando peraltro questo nuovo ampliamento, questa nuova ala della scuola primaria con un ascensore, un nuovo vano scala con uscita di sicurezza nuova. Quindi davvero una struttura molto più funzionale che peraltro si accompagna a riqualificazioni energetiche importanti che abbiamo fatto su tutti i nostri edifici comunali, in particolare sulle scuole, e a tutta una serie di lavori interni che noi abbiamo fatto, tanto che ho infatti indicato all'inaugurazione che solo sulla primaria abbiamo fatto un investimento di circa 1.300.000 euro. Lavori ancora più importanti se si pensa all'emergenza sanitaria dell'ultimo anno e mezzo. Le conseguenze si sono fatte sentire anche sulla riorganizzazione degli spazi nelle scuole. Ormai sono due stati che abbattiamo, ricostruiamo muri in base ovviamente a quelle che sono le dinamiche di distanziamento. Non ci siamo risparmiati, lo abbiamo fatto su tutti i plessi. La mensa per esempio in questo momento ha comunque un carico ridotto rispetto a quello che potrebbe avere perché potrebbe accogliere oltre 260 ragazzi e quindi completamente tutti i ragazzi della primaria. In questo momento sono distribuiti su un unico piano perché anche questo è da sottolineare, cioè il fatto che noi abbiamo liberato altre aule dove venivano utilizzate per le menze precedentemente e che adesso saranno utilizzate magari per laboratori. Quindi sì, il Covid ci ha ancora condizionato, devo dire, speriamo che lo faccia ancora per poco. E l'amministrazione di Certosa si conferma attenta anche alle tematiche ambientali? Assolutamente sì, mi sono dimenticato di dire che abbiamo ulteriori vantaggi da questo ampliamento perché è stato ampliato anche il centro cottura e l'ampliamento del centro cottura ha fatto sì che CIR già previsto d'appalto mettesse delle nuove lavastoviglie che garantiscono in questo modo la possibilità di avere una mensa totalmente plastic free. Peraltro siamo dotati anche di dispenser erogatore dell'acqua che ci mettono nelle condizioni di non utilizzare bottiglie di plastica ma appunto caraffe di vetro per l'utilizzo dell'acqua così come contenitori di vetro.